Ciao a tutti ragazzi sono Yaki Dale e oggi siamo qui in un nuovo episodio della serie di Minecraft Pocket Edition Udite udite ho una proposta da farvi Se arriviamo a 5000 mi piace entro stasera domani uscirà subito 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 un altro episodio di Minecraft Ma detto questo iniziamo con l'episodio che inizia nel peggiore dei modi che poteva iniziare Eccoci qua io vi giuro che ho aperto Minecraft Vi ricordate che abbiamo concluso lo scorso episodio qua dormendo Ho aperto Minecraft E non ho più niente Cosa che normalmente non sarebbe grave visto che io non mi porto mai tante cose di valore Invece è gravissima perché negli ultimi episodi come ben sapete mi ero fatto armature in diamante Cose varie cose incantate tante belle cose che adesso non ho più Quindi se siete d'accordo visto che lo possiamo fare visto che l'ho già fatto in casi dove la colpa non è mia Facciamo una cosa di questo genere Quindi ci mettiamo un secondo solo in creativa E almeno il piccone di diamante L'elitra e l'armatura ce la diamo eh Io vi sfido a rompere le scatole per questa cosa e impazzisco Cioè che colpa ne ho che adesso Minecraft deve mettersi pure lui Va bene non ci possiamo fare molto quindi torniamo in survival Non ricordo sinceramente se questo è dovuto a un aggiornamento o robe varie Comunque mi metto l'armatura di diamante L'elitra la andiamo a depositare in un luogo più consono E recuperiamo magari anche qualche materiale Perché cosa andremo a fare oggi l'avrete già capito sicuramente Oggi andremo a iniziare quella che sarà la nostra casa La nostra residenza nel mondo dell'end Nell'end world Ora non so se farla nell'isola principale dove è nato il drago O se farla nell'isola dove inizia l'altro bioma Io la farei nell'altra isola non in quella principale diciamo Che poi è sempre end e non cambia niente alla fine della fiera Comunque qua ho già un po' di materiali che recuperiamo E questo perché ragazzi? Perché in realtà ho in mente delle cosette per prossimi episodi Che potrebbero essere carine Uh anche un bel po' di ossidiana E' vero che questa qui l'avevo presa per il labirinto Mi ricordo che quando avevo costruito il labirinto per metterci l'uovo del drago Avevo preso tanta di quella ossidiana E direi che ci potrà tornare utile Prendiamo anche della neve Ma non saprei Sicuramente del legno invece potrà tornarci utile Prendiamo anche delle ceste già fatte Una cosa così Non volevo fare una cosa troppo complicata E però neanche una cosa troppo semplice Ma qua non penso ci serva niente Qua c'è qualcos'altro Del quarzo forse Ma no Vetro Sì vetro potrebbe andare il vetro Ci sta sempre del vetro Del carbone per fare eventuali torce Un carretto Che dobbiamo andare in treno Pietra 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 Qua non ce n'è Sì qua poca Ce n'è veramente poca Boh prendiamo cosa a caso Che possono essere sempre utili Non voglio stare a fare avanti indietro nell'ende Quindi meglio prendersi tanti materiali Che poi al limite non usiamo Allora ci manca qualcosa Ma considerando che poi useremo anche molto la pietra lì Come materiale da costruzione Una cosa che sicuramente ci manca È il cibo Non ho niente di sfizioso da mangiare E vabbè ci prendiamo un po' di angurie Che fanno sempre comodo Come ben sapete Sono state il fondamentale motore di questa serie E direi che tre stack possono essere sufficienti Vediamo se per caso qua c'è qualche materiale da costruzione Ma direi che forse questo qua va bene E proprio già che ci siamo Guardiamo anche qua se c'è qualcosa Boh recuperiamo questi due pezzi Sto pensando Una spada forse Per fronteggiare gli enderman Ma io ho ferro Non ho neanche ferro mi volete dire in questo mondo Andremo nel land con una spada di pietra Vabbè abbiamo visto di peggio Sta anche tramontando il sole Quindi cade a fagiolo Così poi dormiamo nel land O meglio prima del portale Dovrebbe esserci un letto Se non vado errando E qual era la strada per land Chi se lo ricorda più Allora Questa qui dovrebbe portare alla città sospesa Questa qui dovrebbe portare al land La città sospesa intendo quella nell'argilla E non quella in cielo di certo Spero di stare facendo giusto È un sacco di tempo che non uso questa ferrovia Cioè guardate cosa avevo costruito Per chi non se lo ricordasse Avevamo fatto veramente un percorso Bello 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 lungo Non dovremmo avere problemi di mostri Che si materializzano a caso in giro E speriamo E quindi possiamo prenderci una piccolissima pausa Intanto che le rotaie vanno da solo Ok sì La vedete che è andato a destra il percorso Quindi questo è quello giusto No 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 Ok sono riuscito a tirarlo giù quello lì Oddio non me lo ricordavo così lungo sto coso Intanto ho fatto una magica storia su Instagram Quindi andate a seguirmi Ok abbiamo girato Quindi la metà è superata Mamma mia ogni volta ripensa quanto è stato traumatico costruire sta cosa Troppo Comunque siamo arrivati quasi Adesso c'è l'ingresso con scritto Lasciate ogni speranza a voi che entrate La discesa E in men che non si dica Siamo al nostro portale Sono circa Quattro minuti e mezzo di treno Non poco diciamo Ok Vediamo se in questa cesta ho qualcosa di interessante Sì può essere C'è anche del ferro Mamma mia che bello Però lo lasciamo lì un attimo il ferro tanto non ci serve per ora Prendiamo un po' di tutto Uh anche se sbarre qua sono belle Sì 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 Ok allora qua c'era il letto Sì perfetto dormiamo E sembra impossibile ma siamo pronti per andare di nuovo nel land Quanto tempo è che non andiamo nel land? Tanto Ma tanto 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 Non mi ricordo neanche com'è fatto Allora abbiamo detto che non costruiremo qua Non costruiremo su quest'isola principale E occhio a non guardare Enderman ovviamente Andremo a costruire in quel coso lì Cioè nell'altra parte però Per farlo mi son dimenticato che ci servono le Enderpearl Quindi dobbiamo farmare un po' di amici Enderman Qua avevo la piattaforma per farmarli Quindi basta fissarne uno Tipo quello lì Vieni 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 Ok basta una Enderpearl Datemi le Enderpearl Enderman Cosa vi costano? Vieni qui carissimo Niente dobbiamo prenderlo con le brutte Ok però adesso siete in troppi arrabbiati con me Oh una Enderpearl Ne prendiamo anche un'altra magari per il ritorno Così ce l'abbiamo già Perfetto No non ti ho guardato Ovviamente sarebbe anche da costruire una farm Forse l'unica cosa utile Tra tutte le farm inutili Come ho spiegato nello scorso episodio La mia concezione di farm In quello che è sempre l'end Però poi viene chiamato Void Storia complicata Lunga e Sinceramente non so che distinzione ci sia Comunque andiamo dentro qualcosa lì Per intenderci Tac Ok ci siamo Qua mi teletrasporta sempre al pelo E non è mai particolarmente bello Comunque Lì inizia il Void Fondamentalmente La nostra casa la farei in un punto tipo sopraelevato Magari su un'isoletta Potrebbe essere cosa interessante Ma poi scusate eh Io qui Non avevo messo tutte le torce Ho fatto tutti i percorsi Dov'è finita tutta quella roba lì? C'è qualcosa che non mi quaglia sinceramente Sì decisamente Non vi ricordate che quando avevamo esplorato Avevamo fatto tutto il percorso Che andava con un senso logico Che se seguivi le torce Arrivavi a un certo punto Cioè ci sono i blocchi da costruzione E va bene Ma non vedo le torce Ah ok Lì ci sono Forse non le avevo messe là Boh Però la casetta non volevo farla troppo lontana Dal punto di spawn Quindi ce ne torniamo indietro Sì 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 Decisamente Credo che l'idea più accreditata per ora Sia quella di farla Su un'isoletta di quelle lì Che abbiamo visto prima Però se non mangiamo niente Possiamo anche scordarci Di fare qualsiasi cosa Allora da dove iniziamo? Considerando che da quell'isola Magari si arriverà in una maniera più carina E non con quell'obroprioso ponte E poi con quest'acqua Magari facciamo una scalinata Una cosa un po' più decente La casa potrebbe venire Oddio potrebbe venire anche già qua Solo per avere un po' di materiali Adesso vi faccio vedere Non si scherza Sarà esattamente su quest'isola E si accederà da qua sotto Sì 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 Idee belle su idee belle Si accederà da qua sotto Magari con un enderper Una cosa un po' complicata O con un sistema Con un pistone Che magari fa uscire dell'acqua Sì 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 Per ora Noi saliamo tipo Così Vediamo se la centro No Niente No adesso se mi teletrasporta Che sono morto Impazzisco Ok l'enderper Non ha funzionato No vabbè essendo che siamo Nell'end comunque Essendo che useremo Le enderper Non serve neanche sta cosa qui Ora però Temporaneamente Facciamo una scalinata Bruttissima Inguardabile Per potervi accedere Ogni volta che vogliamo Che poi non so neanche Dovrebbe essere piatta Sull'isoletta Verò? Datemi delle certezze Ok è piatta È proprio un terreno Perfetto per farci una casetta Farei una cosa Almeno 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 A due piani E farei una cosa ovviamente Simmetrica Allora Usare questi blocchi Sarebbe abbastanza banale Però stanno anche molto bene Con l'ambiente circostante Quindi penso proprio Che useremo questi Non ne abbiamo tanti Quindi li useremo solo Per gli angoli E vediamo un po' Cosa succede Userei il mio solito stile Di casa Quindi alto 3 E poi sopra ci mettiamo Delle scale Messe al contrario Vediamo per sbaglio Che effetto fanno E poi decidiamo Adesso non mi ricordo Se qua si potevano fare Questi blocchi qua Sì Questi qua Che userei come blocchi Da costruzione diciamo E non sono neanche brutti Vediamo come rendono Questi qui potrebbero andare così Ora Non verrà una casa grandissima E questo penso che l'abbiate capito Deve essere un'abitazione A scopo dilettantistico In un certo senso Anche perché poi l'effettiva utilità Non so neanche io Quale possa essere Però Cioè se non hai una casa nel void O nel land Che dir si voglia Non sei nessuno E penso proprio Che una cosa del genere Possa iniziare A prendere forma E a prendere anche Una forma decente Diciamo Sì 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 La forma ci piace È un po' Vecchio stile Ma c'è anche un po' Di moderno Vediamo che effetto fa Da qua giù Per iniziare a capire Come regolarci Ok Non si vede molto Chiaramente Quindi sicuramente Un altro piano Dovremmo farlo Però Anche magari Un terzo piano Adesso però Volevo concentrarmi A sviluppare Un eventuale Sotterraneo Ok Perché adesso Se noi scaviamo qua Calmi 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 Tutti Voglio scavare Proprio tutto il dentro Sarà una casa Non troppo grande Però organizzata bene Nel senso Facciamo anche Il seminterrato qua Poi magari Si possono fare Anche delle finestre Qua sotto Adesso vediamo Un attimo Com'è Alla fine può essere Uno spazio Anche interessante Questo qua Qua sotto Ok Finiamo di scavare E poi Vediamo un attimo Cosa si può fare Dobbiamo un attimo Capire come evolverla Questa Questa casetta Sicuramente abbiamo detto Due piani Se non addirittura tre Sicuramente abbiamo detto Che qua metteremo Le nostre solite scale Ribaltate Però per il resto Non saprei Mi raccomando Se avete dei consigli Scrivetemeli Qui sotto Nei commenti Ovviamente E oddio Mi sta prendendo Un enderman No 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 Yaki yaki Qua 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 Perfetto 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 Meno male che avevo Fatto sta cosa E che mi ricordavo È un segnale Che dobbiamo terminare il video Quindi Mi raccomando 5.000 mi piace Se volete un altro episodio Di minecraft Domani Vi ricordo di seguirmi Anche su instagram E anche su telegram Che sto tornando A usare il canale Basta che su telegram Cercate yaki dale E niente ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo Video